E' un botte risposta continuo il caso del project financing per il nuovo ospedale di Chieti. Continua a far discutere opposizione in maggioranza, contando anche qualche voce fuori dal coro. Che Oliveri si è reso conto che questo progetto di finanza, tra le entrate e le uscite per 30 anni, dei dati veri e reali che io ho letto sul bilancio e che non mi sono inventato come qualcuno fa, a pagina 18 di una delle relazioni, porta una differenza di 704 milioni, che diviso 30 anni significa un costo per 30 anni di 24 milioni di euro. A tracciare numeri e cifre è di nuovo il consigliere di Forza Italia Mauro Febbo, che questa volta porta alla luce i dati contenuti nel bilancio d'esercizio del 31-12-2015 dell'ASL di Chieti-Vasto-Lanciano, chiusa con una perdita di oltre 31 milioni di euro. Il consigliere poi sottolinea che nella previsione di bilancio 2016 si parla di una perdita di 55 milioni di euro. Ecco dunque che un indebitamento per 27 anni, come previsto dal project financing, risulterebbe il colpo di grazia per la sanità. L'ANAC, qualche settimana fa, precisamente il 31 agosto, quindi un mese fa, ha bocciato severamente lo stesso progetto di finanza di nuoro, un'alza di nuoro, un progetto di 1 miliardo e 27 anni, è stato solamente bocciato. Questi sono progetti che partono, si bloccano e poi non sa come va a finire. Il rischio è quello che l'ospedale di Chieti come si potrà ritrovare? L'ospedale di Chieti si potrà ritrovare con un progetto di finanza iniziato, con molti reparti trasferiti, guarda caso una città molto vicina a Chieti e dopodiché il progetto di finanza non si potrà portare avanti, avremo l'ospedale chiuso e qualche altra città avrà finalmente l'ospedale di secondo livello.